I carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Catania nei confronti di cinque soggetti ritenuti responsabili di illecita concorrenza con minaccia e violenza con l'agravante del metodo mafioso. Sono stati rinvenuti a casa di un pregiudicato medillese 5 kg di esplosivo destinati a far saltare in area la saracinesca della costruenda sede delle onoranze tunebri a Sortino. Con l'indagine di oggi si dimostra che la collaborazione con le forze dell'ordine è fondamentale per il mantenimento della legalità nel territorio.